A poco più di dieci giorni dalla partenza per il ritiro di Pizzo Ferrato si aspettano ancora i primi colpi ufficiali, i primi annunci in casa Pescara. Anche se i direttori biancazzurri si trovano a buon punto e nei prossimi giorni arriveranno le ufficializzazioni. Discorso quasi chiuso sul fronte delle uscite, anche se nelle ultime ore si è registrato un'offensiva del Bologna per Gaston Brugman dall'eventuale cessione del regista uruguaiano, il Delfino potrebbe incassare una cifra oscillante tra i milioni e mezzo e i due milioni. Per il momento non ci sono sviluppi sul fronte Memushai, il centrocampista albanese potrebbe essere una pedina fondamentale per il tecnico Oddo, l'uomo d'esperienza intorno al quale far proseguire il processo di crescita di Torreira e Selasi. I principali movimenti in entrata riguardano l'attacco, forte il pressing per il bresciano Daniele Corvia, fortemente richiesto da Oddo. Il centravante è un discreto ingaggio che potrebbe spalmare con un contratto biennale. Intesa anche con Gianluca Lapadula, l'attaccante torinese è in attesa di essere tecnicamente svincolato dal Parma fallito e poi potrà legarsi al Pescara dopo la superstagione a Teramo dello scorso anno. Nelle ultime ore si registra un tentativo con il talentuoso Christian Galano in scadenza con il Bari. Col rientro dal prestito di Vukusic e con i riscatti di Sansovini e Caprari, l'attacco così composto sarebbe al completo, lo spazio per il gemello del gol Alfredo Donnarumma sarebbe ridotto e allora per il capogannoniere della Lega Pro tornerebbe in ballo l'ipotesi di un nuovo prestito al Teramo, anche se su Donnarumma spinge forte anche la Salernitana. A centrocampo il sogno di Massimo Oddo è Jacopo Dezzi. Il giovane centrocampista rosetano è stato appena riscattato dal Napoli dopo la comproprietà col Crotone. Il neotecnico partenopeo Maurizio Sarri sta riflettendo sull'opportunità di portare Dezzi in ritiro e valutarlo. In caso contrario l'ex crotonese potrebbe essere girato in prestito in rival adriatico garantendo una grande duttilità nei vari ruoli della mediana. Per la difesa il nome caldo è quello di un altro bresciano, Valerio di Cesare per le corsie esterne. I nomi più gettonabili sono quelli di Marcello Gazzola del Sassuolo e del Giuliese Cristiano del Grosso dell'Atalanta. Qualche chance anche per un ritorno di Damiano Zanon che ha chiuso la sua esperienza a Frosinone, anche se nelle ultime ore il Delfino sembra voler puntare forte sul ventenne rumeno Mihai Balassa che arriverebbe in prestito dalla Roma.